Se volete acquistare dei crediti di FIFA 15 a prezzi bassissimi passate su easyfifacoins.com E con il codice EZ oltre alla mia ragazza, si proprio lei, avrete anche il 5% di sconti, link in descrizione Bene ragazzi qui Zector e bentornati oggi sul mio canale con un nuovissimo video di FIFA 15 Madonna mia ma che capelli c'ho, oh La scherzi a parte, regà allora questa è la mia rosa, come vedete ho portato una semplicissima modifica Ovvero quella di portare de Gea Sif in porta tra i pali, bestiale E dunque oggi come potete vedere anche dall'immagine in questione, regà andiamo a fare la primissima partita in divisione 1 E la madonna, 85 di valutazione, oh, oddio No, c'è un boom e young, regà, il baggatone, De Bruyne, c'è Schurle, porca droga Allora regà vi dico subito che stasera sono in vena di sparare cagate, però attenzione perché Incominciamo subito a schillare, Ronaldo lo prova, il long show, oh, totesio mio, oh, è scesa come la dieta delle nigri Una cosa molto importante, regà, è che prossimamente arriverà qui sul mio canale una serie fantastica E arriveranno anche dei video assieme a tantissimi altri youtuber, quindi, oddio, non perdetevi Non perdetevi nulla, dai, mezzo che c'è Ronaldo Madonna mia, è passato, è passato filo Voglio fare tipo l'euro goal, il goal della vita, non così, però provissimo, Ronaldo Bale Portacci tua Esordiamo alla grande, in divisione 1, la micia, oddio mio Ah, vedi come vai la Nando, oh, madonna mia, mi sono messo davanti Stile Rocco Sifreddy, attenzione, porca maden No, non può scendere una volta, l'albume young, è l'albume, oddio mio Me l'hanno steso, ma c'è Royce, c'è Royce Porco go, che goal ha fatto, che goal ha fatto, oddio, oddio Ho smontato giù tutto, che goal ha fatto, regà, ha spaccato la porta, guarda Madonna mia, è partito il cavallo, cavallo selvaggio, ho visto anche lo scatto, l'inserimento di Cristiano Ronaldo Guarda che roba, guarda che roba, oh, cosa ha fatto? Con la tega mi ha spostato questo, ha usato pisello ed è stato super efficace, super efficace, no No, sto bug no, no sto bug no, lo dico a mia mamma, lo dico a mia mamma, buttalo via, lo dico a mia mamma, oddio Che cazzo è successo? No, FIFA, no FIFA, non sclerare, eh Cosa ha fatto? Regà, avete visto? Sulla riga, Alaba, io lo amo, Alaba, io lo amo Grande Alaba, vacazione, vacazione, tutto di prima, tutto di prima Arriva l'Eurogoal, arriva l'Eurogoal di Ronaldo Sì, dai Ronny, fatti valere, le prende tu, l'ho visto, vai, corri, corri Bale, corri Gallese Gallese, sbatti là, no, c'ha due piedi, che pagliano quelli di Pamela Anderson, dai là Mettigliela sulla testa, sulla pelota, sulla pelota di Bay Andiamo, gliela ha messa proprio lì, giusta, giusta Sfonda i culi, oh, che fallo, non è fallo, bravissimo No, 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 perché devo fare il coglione? Perché devo fare il deficiente? Porca miseria Va bene, nessun problema, regà, la partita così è più bella, è più vivace Guarda tanto come li faccio fuori, con niente Luchino motrice, Luchino long shot, Dio mio, Dio mio, che cosa ha fatto? Sto registrando, raga, sto, che cosa ho fatto? Oddio, oddio, oddio Oh ma pazzesco Stasera diamo i numeri qua Mamma mia Mamma mia Regà tantissimi mi piace per questo episodio Per questo video Sta uscendo un qualcosa di assurdo Guarda che botte Oh madonna mia Li stiamo umiliando questi qua Basta questi bug in difesa È arrivato l'albume Eeeh mamma mia Alaba L'ho ucciso Killer Dunque regà finisce 3 a 1 il primo tempo È stata una roba pazzesca Cioè è successo di ogni E lo ripriamo con Ronaldo Con Ronaldo Oddio Guardalo Bravo Alaba Nel due ne ho anche dato fallo Oddio mio Stasera FIFA è buggato come Come non mai Nel dubbio Alaba Cosa cade Ramos Cosa fai? Passa Passa Luchino Passa Luchino Il pallonetto No Vole a farlo stronzo Iniesta La trappola Guardalo qua Sì vabbè me la porti via con Iniesta Tranquillo Vai tranquillo Vai tranquillo zio Belle Di prima Ronaldo Oddio che ti è stata No 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 Porco cane 3 a 2 No la riaperta così Raga Però Sto qua tira e fa gol Puoi fare il furbo? Perfetto Prenditi questo di Roche Oddio Porco cane Porco cane Si così come prima Sempre di testa L'ho montato Alaba è tuo È tuo Alaba Paccano tu Troppo traversa No No Non ci credo Oh bravo De Marcos Così mi piaci Attivo Vivace Cattivo Si si vai su una fascia Corri Con la velocità di un qual arboreo Si accinge A fare un traversone Bellissimo Per Ronaldo Traversa Royce Ma che cazzo è quella roba lì Non ci credo No Se fa gol adesso grande De Gea Caccia via Caccia via Si Spazza Mancano 5 minuti 3 a 2 Una partita pazzesca Ho preso due traverse epiche Oh ecco che c'è Royce Voglio fare una cosa Oh fallo No Ah ecco Stavo già Guarda Stavo già per lanzare la sedia Olè Andiamo a vincere 3 a 2 Una partita Pazzesca Rega cosa dire Io mi sono divertito Personalmente Tantissimo Anche perché Poi ripeto Il gol di Modrice Pensi insomma Che non si veda tutti i giorni Tra l'altro guardi Le statistiche ho fatto 18 tiri in porta Fatto stai insomma Che come vi dicevo Prossimamente Arriveranno tantissimi video epici Assieme ad altri ragazzi Quindi continuate a rimanere Sintonizzati qui sul mio canale Continuate a seguirmi Mi raccomando Lasciate un piccolo commento Un piccolo mi piace Per questa prestazione Non da letto Rega però È stata una cosa epica Come sempre Spero di avervi fatto divertire Di avervi fatto passare Un paio di minuti In buona compagnia Vi ringrazio come sempre Per tutto il supporto Rega perché siete delle persone Fantastiche E quindi niente Insomma Da Zector è tutto Un bacione Un salutone Ciao campioni